Ti sei mai chiesto il significato che sta dietro il mese in cui sei nato? Quello che potresti non sapere è che sei modellato dall'animale spirituale associato al tuo mese di nascita. Continua a guardare per scoprire qual è il tuo animale spirituale. Ogni mese è collegato a un animale spirituale specifico e comprendere questa connessione può fornire approfondimenti arguti sulla tua personalità e sul tuo percorso di vita. Questi animali servono come guide spirituali, aiutando le persone a comprendere meglio se stesse e a navigare la loro vita con maggiore consapevolezza e scopo. Conoscere il tuo animale spirituale non riguarda solo il riconoscere i tratti che condividi con un determinato animale, ma riguarda anche l'abbracciare le forze e le qualità che questo animale simboleggia e il comprendere come questi tratti influenzino le tue azioni, decisioni e interazioni. Ti ricordo, e ti invito, a lasciare un commento riflessivo alla fine perché ogni video è sempre, di fatto, una risposta. Gennaio Le persone nate a gennaio hanno il lupo come loro animale spirituale, che simboleggia lealtà, intuizione e leadership. I lupi sono noti per il loro forte senso di lealtà al branco. Allo stesso modo, le persone nate a gennaio spesso mostrano una profonda lealtà verso la famiglia e gli amici. Sono il tipo di persone che rimangono al fianco dei propri cari nelle situazioni difficili. La loro lealtà è incrollabile, rendendoli compagni affidabili e degni di fiducia. L'intuito è un'altra caratteristica chiave del lupo. Le persone nate a gennaio hanno un acuto senso dell'intuito che le aiuta a navigare nella vita. Spesso hanno un forte istinto riguardo alle situazioni e alle persone, e più spesso che no, i loro istinti sono accurati. Questa natura intuitiva permette loro di prendere decisioni sagge e di evitare potenziali insidie. Si fidano della loro voce interiore e spesso sono guidati dai loro istinti. La leadership è una caratteristica prominente in coloro che sono nati a gennaio. Proprio come il lupo guida il suo branco, le persone nate a gennaio spesso si trovano in ruoli di leadership. Hanno una naturale capacità di guidare e ispirare gli altri. Il loro stile di leadership è spesso caratterizzato da forza e fiducia. Non hanno paura di prendere il comando quando necessario e sono bravi a organizzare e motivare il loro team. La loro leadership non riguarda solo il dare ordini. Ma anche l'essere un esempio e guidare con integrità. Febbraio Coloro che sono nati a febbraio hanno il falco come animale spirituale, che rappresenta visione, consapevolezza e la capacità di vedere il quadro generale. Possono vedere ciò che vogliono raggiungere e hanno un forte senso di direzione nelle loro vite. La consapevolezza è associata al falco. Le persone nate a febbraio sono spesso altamente consapevoli del loro ambiente e delle situazioni in cui si trovano. Questa consapevolezza accresciuta consente loro di comprendere le dinamiche in gioco in varie circostanze. Sono perspicaci e possono cogliere rapidamente i fattori sottostanti che influenzano gli eventi e le decisioni. Questa abilità li aiuta a navigare nella vita con un senso di chiarezza e scopo. La capacità del falco di vedere il quadro generale si riflette anche nelle persone nate a febbraio. Hanno un talento naturale per guardare oltre le preoccupazioni immediate e comprendere le implicazioni a lungo termine. Questa prospettiva consente loro di prendere decisioni ponderate e informate. Non si lasciano facilmente influenzare dai guadagni a breve termine o dalle distrazioni perché tengono sempre gli occhi puntati sui loro obiettivi più grandi. Questo modo di pensare a lungo termine li aiuta a rimanere concentrati e impegnati nel loro cammino. Gli individui nati a marzo hanno il falco pellegrino come animale spirituale. I falchi pellegrini sono noti per la loro incredibile visione, concentrazione e indipendenza. Questi tratti si riflettono spesso nelle personalità di coloro che sono nati in questo mese. Sovente hanno un'idea chiara di ciò che vogliono ottenere nella vita. Stabiliscono obiettivi a lungo termine e hanno un forte senso di direzione. La loro visione li aiuta a rimanere motivati e a lavorare costantemente verso i loro obiettivi, anche di fronte agli ostacoli. Possono vedere chiaramente l'obiettivo finale, il che li aiuta a mantenere la concentrazione. Le persone nate a marzo hanno la capacità di concentrarsi profondamente sui loro compiti. Una volta che decidono di fare qualcosa, la perseguono con determinazione incrollabile. Questa forte concentrazione consente loro di raggiungere alti livelli di successo nei loro sforzi. Non si distraggono facilmente e possono mantenere l'attenzione su ciò che è più importante per loro. L'indipendenza è anche una qualità significativa del falco pellegrino. Coloro che sono nati a marzo apprezzano la loro libertà e preferiscono tracciare il proprio percorso nella vita. Sono autosufficienti e fiduciosi nelle loro capacità. Aprile Per coloro nati ad aprile, il cervo è il loro animale spirituale. Il cervo rappresenta gentilezza, sensibilità e intuizione, tratti che sono spesso visti negli individui nati ad aprile. La gentilezza è una caratteristica prominente del cervo. Gli individui nati ad aprile sono noti per la loro natura gentile e amabile. Affrontano la vita e le relazioni con un atteggiamento calmo e rassicurante. Il loro spirito gentile li rende avvicinabili e facili da parlare, poiché spesso sono buoni ascoltatori che offrono conforto agli altri. La sensibilità è un'altra qualità importante del cervo. Coloro che sono nati ad aprile sono altamente sensibili all'ambiente circostante e alle emozioni degli altri. Possono facilmente percepire i sentimenti e gli stati d'animo delle persone intorno a loro. Questa sensibilità consente loro di connettersi profondamente con gli altri e di offrire empatia e supporto. Spesso sono sintonizzati sui bisogni di coloro a cui tengono e sono pronti a offrire aiuto quando necessario. L'intuizione è associata al cervo. Gli individui nati ad aprile hanno un forte senso intuitivo che li guida nelle loro decisioni. Spesso si affidano alle loro sensazioni viscerali e alla loro saggezza interiore per navigare nella vita. Questo intuito li aiuta a fare scelte che sono in linea con il loro vero sé e i loro valori. Si fidano dei loro istinti e spesso sono guidati da una conoscenza interiore che li porta a risultati positivi. Maggio Coloro che sono nati a maggio hanno la lontra come animale spirituale. Questo animale simpatico simboleggia giocosità, adattabilità e forti abilità sociali. Queste caratteristiche sono spesso presenti nelle persone nate a maggio. La giocosità è un tratto distintivo della lontra. Coloro che sono nati a maggio tendono ad avere un approccio alla vita leggero e gioioso. Amano divertirsi e portare felicità agli altri. La loro natura giocosa li rende piacevoli da frequentare, poiché hanno un talento per sollevare il morale delle persone intorno a loro. Spesso portano risate e gioia nei loro circoli sociali, creando un'atmosfera di positività. Gli individui nati a maggio sono altamente adattabili e possono conformarsi con facilità a circostanze mutevoli. Sono flessibili nel loro pensiero e nelle loro azioni, il che consente loro di navigare nelle sfide della vita senza troppe difficoltà. Questa adattabilità li aiuta a prosperare in varie situazioni, poiché possono trovare rapidamente soluzioni e conformare i loro piani secondo necessità, giugno. La farfalla, che rappresenta trasformazione, bellezza e libertà, è l'animale spirituale per coloro che sono nati a giugno. La trasformazione è una caratteristica significativa della farfalla. Coloro che sono nati a giugno spesso sperimentano crescita personale e cambiamenti durante tutta la loro vita. Abbracciano la trasformazione e la vedono come una parte naturale del loro viaggio. Questa adattabilità consente loro di evolversi e crescere, spesso emergendo più forti e più saggi dalle loro esperienze. Sono aperti a nuovi inizi e non hanno paura di lasciarsi il passato alle spalle per andare avanti. La libertà è associata alla farfalla. Le persone nate a giugno apprezzano la loro indipendenza e la capacità di vivere la vita secondo i propri termini. Apprezzano la loro libertà e cercano spesso esperienze che consentano loro di esplorare e esprimere se stessi. Questo desiderio di libertà li spinge a perseguire le loro passioni e interessi senza essere limitati da vincoli o restrizioni. Apprezzano il senso di liberazione che deriva dall'essere fedeli a se stessi. Inoltre, gli individui nati a giugno spesso hanno un'energia leggera e vibrante. Portano un senso di gioia ed entusiasmo nelle loro interazioni, sollevando chi li circonda. Luglio Gli individui nati a luglio hanno il salmone come loro animale spirituale. Il salmone rappresenta determinazione, resilienza e adattabilità. Questi tratti si riflettono fortemente nelle personalità di coloro che sono nati in questo mese. Le persone nate a luglio sono note per la loro poderosa forza di volontà e perseveranza. Quando si concentrano su un obiettivo, lo perseguono con determinazione incrollabile. Non si scoraggiano facilmente dagli ostacoli e dagli insuccessi. Invece, usano le sfide come motivazione per andare avanti. La loro determinazione li aiuta a raggiungere i loro obiettivi, non importa quanto possa essere difficile il percorso. La resilienza è un'altra qualità importante del salmone. Coloro che sono nati a luglio hanno una straordinaria capacità di riprendersi dalle avversità. Affrontano le difficoltà della vita con forza e grazia, trovando sempre un modo per recuperare e andare avanti. Questa resilienza è una testimonianza della loro forza interiore e della loro mentalità positiva. Vedono gli insuccessi come opportunità per imparare e crescere, rendendoli individui più forti e capaci. Agosto Gli individui nati ad agosto hanno l'orso come loro animale spirituale. L'orso incarna forza, saggezza e protezione. Questi attributi sono spesso visti in coloro che sono nati ad agosto, influenzando il loro approccio alla vita e alle relazioni. La forza è un tratto distintivo dell'orso. Le persone nate ad agosto possiedono una forza interiore che consente loro di affrontare le sfide con coraggio e determinazione. Questa forza non è solo fisica, ma anche emotiva e mentale. Hanno la resilienza per resistere alle difficoltà e la determinazione per continuare ad andare avanti. La loro forza consente loro di affrontare gli ostacoli di petto, rendendoli affidabili e tenaci nei momenti difficili. Questi individui spesso mostrano un profondo senso di saggezza che deriva dalle loro esperienze di vita. Hanno una capacità naturale di comprendere situazioni complesse e di offrire consigli saggi. La loro saggezza consente loro di vedere le cose da diverse prospettive e di prendere decisioni ben ponderate. Spesso sono cercati dagli altri per la loro guida e conoscenza, poiché possiedono un atteggiamento calmo e riflessivo. Settembre Gli individui nati a settembre hanno il gufo come loro animale spirituale. Il gufo simboleggia saggezza, intuizione e percezione, attributi che influenzano profondamente coloro che sono nati in questo mese. La saggezza è un tratto prominente del gufo. Gli individui nati a settembre spesso possiedono una profonda conoscenza e comprensione. Sono naturalmente curiosi e amano imparare, cercando costantemente di espandere le loro menti. Questa sete di conoscenza dà loro una prospettiva ben arrotondata sulla vita. Sono spesso considerati saggi oltre i loro anni, capaci di fornire consigli ponderati e perspicaci agli altri. La loro saggezza li aiuta a navigare nella vita con un senso di chiarezza e scopo. L'intuito è un'altra caratteristica significativa del gufo. Le persone nate a settembre hanno un forte senso intuitivo che guida le loro decisioni e azioni. Hanno un'innata capacità di percepire cose che altri potrebbero non notare. Questo intuito li aiuta a leggere accuratamente le situazioni e le persone, permettendo loro di prendere decisioni sagge. Si fidano delle loro sensazioni viscerali e spesso sono guidati da un senso interiore di conoscenza che li porta a fare scelte prettamente sagge e benefiche. Ottobre La volpe rappresenta coloro che sono nati in ottobre, incarnando astuzia, adattabilità e intraprendenza. Gli individui nati in ottobre sono pensatori rapidi, capaci di navigare in situazioni complesse con facilità. L'astuzia è una caratteristica significativa della volpe. Le persone nate in ottobre possiedono un'intelligenza acuta e un forte senso della strategia. Sono pensatori rapidi che possono navigare in situazioni complesse con facilità. Questa natura astuta consente loro di superare gli ostacoli e trovare soluzioni innovative alle sfide. Non si lasciano ingannare facilmente e hanno un talento naturale per vedere attraverso gli inganni, il che li aiuta a evitare insidie e a fare scelte sagge. L'adattabilità è un'altra qualità chiave della volpe. Gli individui nati in ottobre sono altamente adattabili e possono prosperare in una varietà di ambienti. Sono flessibili e aperti di mente, capaci di adeguare i loro piani e azioni per conformarsi alle circostanze mutevoli. Questa adattabilità consente loro di gestire l'incertezza con fiducia e di rimanere resilienti di fronte ai cambiamenti. Abbracciano nuove esperienze e sono sempre pronti a esplorare percorsi diversi per raggiungere i loro obiettivi. Novembre Il corvo, che incarna trasformazione, magia e mistero, è l'animale spirituale per coloro che sono nati a novembre. Queste qualità si riflettono fortemente in coloro che sono nati in questo mese, influenzando la loro visione e le loro interazioni con il mondo. La trasformazione è un tratto centrale del corvo. Spesso sperimentano cambiamenti significativi durante la loro vita. Abbracciano queste trasformazioni come opportunità di crescita e rinnovamento. Questa capacità di adattarsi e evolversi consente loro di navigare con grazia tra gli alti e bassi della vita. Non hanno paura del cambiamento e lo vedono come una parte necessaria del loro viaggio. Questa natura trasformativa li aiuta a reinventarsi continuamente, cercando sempre di diventare versioni migliori di se stessi. La magia è un altro aspetto chiave del corvo. Gli individui nati a novembre hanno una profonda connessione con il mistico e l'ignoto. Sono spesso attratti dagli aspetti spirituali e metafisici della vita. Questo senso di magia dà loro una prospettiva unica sul mondo, permettendo loro di vedere possibilità che altri potrebbero trascurare. Dicembre Gli individui nati a dicembre hanno la renna come loro animale spirituale. La renna rappresenta forza, resistenza e guida. Questi attributi sono profondamente radicati in coloro che sono nati a dicembre, influenzando le loro azioni e interazioni. La forza è un tratto prominente della renna. Gli individui nati a dicembre possiedono una notevole forza interiore che consente loro di affrontare le sfide con resilienza e determinazione. Questa forza non è solo fisica, ma anche emotiva e mentale. Hanno una natura costante che permette loro di rimanere saldi di fronte alle avversità. La loro forza li aiuta a sostenere gli altri, rendendoli compagni affidabili e degni di fiducia nei momenti difficili. La resistenza è un'altra qualità chiave della renna. Le persone nate a dicembre sono note per la loro incredibile resistenza e perseveranza. hanno la capacità di continuare anche quando la situazione si fa difficile. Giunti fin qui, personalmente vorrei ringraziarti innanzitutto per la tua attenzione. Se poi ti è piaciuto e hai apprezzato il contenuto, concedici il tuo like e considera l'idea di iscriverti al canale per non perderti i nostri prossimi contenuti di valore. Se si guarda negli occhi un animale, tutti i sistemi filosofici del mondo crollano. Sii felice e prenditi cura di te. A presto.